buongiorno a tutti buongiorno a tutte ore 13 e 22 oggi lunedì 24 maggio e 24 luglio perdonatemi piccolo lapsus stavo guardando sale guardando bassetti o dei lapsus incredibili e notizia notizia dell'ultima ora pubblicata da tommaso croco perché ha denunciato bassetti perché parole del professore bella vite ho denunciato bassetti lo dice in un'intervista la verità tendo che siamo collegati bassetti mi emoziona talmente tanto che ho detto maggio invece che luglio pensate pensate aveva fatto scalpore nei giorni scorsi la notizia di una lettera inviata da alcuni medici all'ordine per chiedere dei provvedimenti nei confronti del virologo matteo bassetti no e ovviamente ovviamente bassetti si è difeso ha risposto per dicendo di essere più forte che mai e addirittura ha ringraziato i suoi tra virgolette aggressori legali dicendo avete fatto bene e dal mico buongiorno robbie dalla calda sardegna antonio c'è molto caldo quanti gradi ciao carlo di nuovo online ciao paolo e vedo i primi collegati allora interessante questa questa sfida a distanza tra bassetti e questo gruppo di medici che ce l'hanno ce l'hanno letteralmente con lui tanto che tanto che amici hanno continuano andare avanti a spiegare le motivazioni in questo caso parliamo del professor bella vite contro il virologo contro il virologo in questa intervista alla verità e abbiamo fatto scalpore nei giorni scorsi lago direttamente l'articolo dell'amico tommaso croco della nostra redazione il paragone punto it e siete pronti aveva fatto scalpore nei giorni scorsi la notizia di una lettera inviata ai medici all'ordine per chiedere dei provvedimenti nei confronti del virologo matteo bassetti uno dei volti più noti del piccolo schermo lo conoscerete tutti ha fatto più apparizioni lui in tv che mai buongiorno quindi lo conoscerete sicuramente accusato dai colleghi di aver violato diversi articoli deontologici tra i firmatari del testo c'è anche il professor grande professor paolo bella vite dell'università di verona quindi non è l'ultimo arrivato che alle pagine della verità ha spiegato le ragioni del suo gesto siete pronti siete curiosi di capire le ragioni del gesto di questa denuncia da parte di questi medici c'è anche un professore universitario importante no non è solo dice parole testuali non è solo un fatto personale amici non è solo un fatto personale cosa vuol dire di offese ai colleghi fatte da bassetti quindi qua su questo loro dicono ci sono delle offese c'entra il ruolo del medico e dell'ordine attenzione attenzione come garanzia della scienza e della medicina il punto non è avere opinioni diverse ma l'accusa con il linguaggio violento e propagandistico nei confronti dei colleghi quindi danno del violento del linguaggio violento a matteo bassetti credo credo attenzione a continua parole testuali del sempre del professore bella vite credo sia molto grave ha spiegato ancora bella vite che il dottor bassetti si erga ancora oggi a giudicare medici che non hanno applicato i protocolli ufficiali durante la pandemia lui li cita come fossero il vangelo quando è chiaro invece che quei protocolli erano sbagliati e pericolosi invece lui insiste l'accusa contro bassetti anche quella di minimizzare gli effetti avversi nei vaccini anti covid materia nella quale non è minimamente esperto quindi da addirittura del poco esperto a matteo bassetti ditemi voi cosa ne pensate cosa ne pensate di matteo bassetti per voi un esperto merita quello che gli stanno facendo questa denuncia di gruppo bella vite anche sotto il professor bella vite dell'università di verona anche sottolineato come non sia vero quanto sostenuto da bassetti circa il documento che chiede provvedimenti disciplinari nei suoi confronti dice che ci sono nomi falsi inventati per riempire le caselle non è vero non è vero quindi sta dicendo che ha detto cose false delle cose false al massimo si è verificato qualche errore di trascrizione bella vite dopo essere andato in pensione da docente della facoltà di medicina ha lavorato all'università di verona fino a quando non è stato allontanato per le sue posizioni sui vaccini ci sono tanti medici dice bella vite insoddisfatti di questo modo di gestire l'ordine è diventato un organo che serve a rilanciare le politiche governative la denuncia di bassetti vuole aprire un dibattito anche su questo amici a questo punto a chi dare ragione non lo solo deciderà la magistratura se si arriverà in tribunale lo deciderà l'ordine se l'ordine avrà voglia di guardare queste cose bassetti sarai più forte di prima come hai detto tu nelle dirette anzi professor bassetti sarà più forte di prima come ha detto lei nelle dirette do delle bassetti perché merita del lei no perché io del tu lo do agli amici lui per me non è un amico e neanche per voi presumo quindi di do del lei forse anzi del lei lo dai a quelli che stimi io poi gli do del voi voi bassetti detto questo sono curioso di capire come andrà avanti la questione è chiaro che quasi continuano ad offese la cosa è certa noi cittadini siamo stati offesi più volte da bassetti io personalmente ho preparato una querela che non è stata accettata dalla questura di modena perché era troppo generica nel senso che aveva offeso tutti dicendo che abbiamo i neuroni che di fatto non funzionano caro professor bassetti chi vivrà vedrà sono curioso di vedere come andrà a finire questa love story questa love story tra tanti medici tanti cittadini e il professor noto televisivo bassetti che ha fatto più apparizioni ormai e lo dico col sorriso di mike buongiorno ciao a tutti buona giornata condividete e commentate